Il braccio è maciullato dalla macchina con la quale stava lavorando. Un operaio di 40 anni di nazionalità senegalese è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro nell'area dell'ecodistretto di Fusina di Veritas. L'uomo, dipendente di una ditta che non fa parte di società del gruppo Veritas, secondo le prime ricostruzioni stava effettuando delle operazioni di pulizia ad un rullo a tamburo utilizzato per il metallo. L'operaio ha infilato il braccio destro tra il nastro e il tamburo. In questi casi le procedure di sicurezza prevedono che l'operazione sia eseguita solo a macchina spenta e con le chiavi di accensione disinserite in possesso di chi esegue la polizia. Sempre secondo le prime ricostruzioni, un operaio del turno successivo avrebbe avviato la macchina senza immaginare che il collega stesse lavorando tra i rulli. Il tamburo si è messo in movimento e ha maciullato il braccio destro dell'operaio. Sul posto è intervenuto il 118 e lo Spisal.